Condanne definitive appena che oscillano dagli 11 mesi ai 25 anni per 22 soggetti dei due clan mafiosi Nardino e Testa la Piccirella, attivi nel territorio di Sansevero e colpiti dal blitz Ares del 2019. Sono i provvedimenti eseguiti nelle scorse ore dalla Polizia di Stato emessi dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale di Bari in attuazione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari e divenuta definitiva lo scorso 17 maggio. Sentenza che rappresenta l'esito di un articolato procedimento penale che ha consentito di giungere al riconoscimento, prima in fase cautelare, poi in appello dell'esistenza di un'autonoma organizzazione mafiosa attiva nel territorio di Sansevero nel mese di giugno 2019, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia il giudice per le indagini preliminari aveva adottato un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di 56 soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso estorsione, tentata estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spaccio di droga, danneggiamento, reati in materia di armi e tentato omicidio tutti aggravati dalle finalità mafiose. Nel dettaglio i provvedimenti emessi nelle scorse ore consistono in 15 ordini di arresto con detenzione in carcere e 7 provvedimenti che prevedono la sospensione dell'esecuzione per consentire al condannato di chiedere una diversa modalità di espiazione della condanna, tra cui detenzione domiciliare o affidamento in prova ai servizi sociali. L'attività di polizia giudiziaria ha visto l'impiego di 60 poliziotti che hanno operato in provincia di Foggia e di altri operatori della polizia di Stato che hanno rintracciato alcune tra le persone condannate in provincia di Napoli, Chieti, Viterbo e Ascoli Piceno.